Il PD di Renzi con il 32,2% si conferma primo partito nel Paese. Cresce a circa 6 punti da dicembre ad oggi il vantaggio sul Movimento 5 Stelle e questa è la fotografia del consenso che emerge dal barometro politico di marzo dell'Istituto Demopolis. Il Movimento di Grillo, sia pur danneggiato dalle incertezze sulle unioni civili, resta stabilmente con il 26% la sonconda forza politica del Paese e con l'Italicum andrebbe oggi ad un ballottaggio molto aperto con il partito del Premier. I due anni di governo Renzi, come emerge dal trend storico dell'Istituto diretto da Pietrovento, hanno determinato un netto mutamento degli equilibri in seno all'area di centrodestra con un crollo del peso elettorale del partito di Berlusconi, passato dal 23% del febbraio 2014 al 10,2% odierno, oltre quattro punti sotto la Lega di Salvini, posizionata al 14,8%. L'Italicum, che porta al ballottaggio le prime due liste, non favorisce lo schieramento di centrodestra diviso in tre forze politiche differenti. Come dimostra il caso Roma, pesa anche a livello nazionale l'assenza di una leadership condivisa. La fotografia sul consenso ai partiti, scattata da Demopolis per il programma 8,5% condotto sulla 7% da Lili Gruber, si completa con le altre forze minori. Fratelli d'Italia, della Meloni, al 4,5%, Selle, sinistra italiana, al 4,2% e Area Popolare, costituita da Udc e Ncd di Alfano, al 3,8%. Il lieve ripresa dopo la centralità acquisita nel dibattito sulla legge Cirinà. Sotto il 2% le altre liste. I dati del barometro politico di marzo, così come spiegato dal direttore Pietro Ventu, confermano anche una crescente disaffezione al voto. Si recherebbero oggi alle urne per le politiche meno di 6 elettori su 10, con circa 8 milioni di astenuti in più rispetto alle politiche del 2013. Quasi 20 milioni oggi non voterebbero. L'assenzione colpisce tutti gli schieramenti politici, da Forza Italia al Movimento 5 Stelle, ma anche il PD, soprattutto nel centro-sud del paese. Ed è una tendenza, conclude Pietro Ventu, che peserà significativamente anche sul voto di primavera per le amministrative.